Il giorno in cui ho piantato questo cartello ero convinto di aver giocato bene alle mie carte. Credevo che nessuno avrebbe più potuto distruggere questa parte di foresta. Hai una regola, hai una legge, hai che applicarla. Quindi, se il fiscale è ordinario e non l'applicarono fino a oggi, a chi devo chiedere che la legge applicate? Io non discuto della legalità della tua riserva. Io discuto se entreranno nella tua riserva o no. Il problema è che chi arriva prima a prendere la posizione della terra ce l'ha. Come il far wealth. Legalmente è così oggi giorno. Con la differenza che c'è sulla decisione politica. Cosa vogliamo fare? 5.000 ettari ancora di bosco buttato giù per mettere 5.000 vacche o vogliamo fare una riserva. Seconda la nostra riserva. A meno che gli am altri iscritti e lo sape. Quindi, solo gli amici. Questo è un frattamento di fiscale che non l'ha. Inoltre le sope. È un frattamento. Alla sia l'ha. È un frattamento. È un frattamento. E un frattamento. È un frattamento. 9.000 milioni di abitanti. La fauna deve essere data. Abbiamo che produzione, 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 produzione più o meno costi. Favero Pelotto, già viste, è pelato. Ajota, vale la pena proteggere 5.000 hectare? Vale la pena, Daniele. Grazie a tutti.